Chissà dov'era casa mia, è quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sogno, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma l'assume è rimasto Dio. E' un'emozione grandissima perché avremo modo di battezzare questo luogo magico che diventerà da oggi appunto la Curva Pantani. Era già stata battezzata con l'immagine di Marco nel 2013 quando c'è stato il cronometro da Gabice Mare a Saltara e abbiamo voluto fare di più, quindi rendere ancora più unico questo posto. L'inizio poi della strada panoramica che Marco comunque frequentava per allenamento coniugando l'immagine di Marco dello sport e delle geste che ha fatto con il nostro brand Gabice Maremonte. Qui siamo alle porte del San Bartolo, siamo alle porte delle Marche, unisce due territori, Marche e Emilia Romagna, quindi c'è questo collubio importante tra sport e territorio. Noi siamo orgogliosi anche di avere la presenza della Fondazione Marco Pantani che ha accolto con grande indusiasmo la nostra idea, la nostra proposta. Sarà presente la mamma Tonina e la nipote Serena oltre altri rappresentanti della Fondazione. E poi ci sono anche tanti appassionati di Marco Pantani, quindi c'è il Pantani Fan Club. E' un momento per ricordare veramente una persona che ha fatto del ciclismo, ha esaltato il ciclismo. E' una cosa bellissima, mi fa piacere che ho visto che c'è tanta gente che passa e dai, è bello. Tanta gente vuol dire sempre tanto affetto per Marco, che è sempre nel cuore di tutti. Certo, è vero, sai quanta gente ha voluto bene il mio Marco e ancora oggi lo ricordano per tutto in tutto il mondo. Anche quando grandi ciclisti oggi fanno delle grandi imprese si ricordano poi sempre quelle di Marco, anche come termine di paragone per quello che è stato quel grande ciclista. Certo, poi sai quanta gente che viene al cimitero dove c'è il mio Marco, arrivano dei milioni di persone. Sono contentissimo e soddisfatto perché mi fa piacere che ancora oggi c'è un ascolto, c'è una passione sul mio Marco. Voglio fare innanzitutto i complimenti al comune di Gabice per aver fatto questo bellissimo gesto. Marco Pantani ormai è rimasto nel cuore di tutti gli italiani ma soprattutto delle persone che vivono in questo territorio. Marco utilizzava le strade del nostro territorio provinciale per allenarsi. Riconoscere appunto una curva dedicandola a lui secondo me è stato un bellissimo segnale anche perché ricordo che Gabice è diventata una delle eccellenze a livello nazionale per quanto riguarda il cicloturismo, non solo per quanto riguarda il ciclismo agonistico, cioè tutti quelli che vengono ad allenarsi in questo territorio, ma Gabice è sempre di più un punto di riferimento per coloro che decidono di venire in vacanza. Marco! 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 Marco!